Polizia locale di Sassari in festa. Oggi si celebra San Sebastiano, patrono del corpo. La messa, ufficiata dall'arcivescovo Gianfranco Saba, è stata celebrata nel santuario della Beata Vergine delle Grazie, in piazza San Pietro in Silchi, alla presenza delle autorità civili e militari. La ricorrenza è stata l'occasione per ringraziare gli uomini e le donne della polizia locale. È un'occasione per riunirci nel santuario di San Pietro, perché festeggiamo sempre in questo straordinario santuario che custodisce la Madonnina della Grazia, che è nostra copatrona per effetto di un decreto adottato dall'arcivescovo Monsignor Isgro tanti anni fa. Noi abbiamo un amore e una dedizione particolare per questo santuario e ogni anno festeggiamo la nostra ricorrenza con grande commozione e con grande calore. La celebrazione si è conclusa con la consegna degli encomi agli agenti che si sono distinti, dimostrando professionalità e dedizione in alcune operazioni particolarmente impegnative e difficili. La polizia locale è molto e soprattutto questo. La polizia locale è prevenzione, la polizia locale è sensibilizzazione. Pensi che abbiamo lavorato nelle scuole di ogni ordine grado per radicare nei giovani la cultura della legalità. I giovani oggi rappresentano il patrimonio umano su cui investire per rafforzare la cultura delle regole, il sentimento di giustizia e legalità, la fiducia nelle istituzioni.